in questo video parliamo del grande fratello e di quello che accadrà in modo particolare questa sera una grande puntata ci aspetta perché c'è un televoto di fuoco vi ricordo infatti che al televoto c'è Beatrice Luzzi con Massimiliano Varrese ma vediamo un attimo cosa è accaduto ieri sera nella casa più espiata d'italia ieri pomeriggio Beatrice Luzzi ha litigato con Rosicin e Fiordaliso perché le è accusate di parlare alle spalle di Vittorio Menozzi ovviamente entrambe hanno negato e la cantante poi ha affermato ma stai scherzando si sa che stai scherzando perché questa cosa che stai dicendo è molto grave a questo punto la Luzzi ha ripetuto ciò che stava dicendo da ormai qualche minuto ovvero che quando lui non c'è loro a tavola sparlano del modello e infatti dice lo vedrete domani in puntata a un certo punto forse perché è amica di Beatrice è stata messa in mezzo Grecia nel video infatti possiamo vedere che Grecia si avvicina a Ciro mentre Fiordaliso la guarda da lontano poi ad alta voce dice guarda è arrivata l'altra e le due attrici vai a cacare vai queste le parole di Fiordaliso a questo punto esce anche in giardino Rosicin e Jill Cooper e la cantante fa una battuta che non è per nulla piaciuta al web infatti gli utenti l'hanno trovata di cattivo gusto quando dice alle sue due amiche che aveva voglia di tirargli una padellata in faccia poi sempre Fiordaliso continua riferendosi alle due amichette Jill e Rosy dicendogli perché stavo rigliando dice a Beatrice e poi fa vinceranno loro saranno le ultime due in casa voi cosa ne pensate fateci sapere e continuate a seguirci per non perdervi tante altre news grazie 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 grazie